Buonasera, buongiorno, non so, comunque è uguale. Salve a tutti, sono Rosaria, sono napoletana, però vivo da 13 anni in Irlanda e infatti sono venuta dall'aeroporto di Dublino direttamente a Chisinao prima agosto dell'anno scorso e poi insomma adesso per i definitivi. Dunque, andando al ritroso nel tempo, io prima di tutto sono profondamente grata al dottor Palmas e tutto il team. Quando diciamo al dottor Palmas, chiaramente lui per primo, però io non posso scendere le varie persone che mi hanno aiutato, che sono a pari livello, sono tutti veramente molto molto preparati e disponibili. Quindi io ho avuto un'esperienza eccezionale con loro, in pochi mesi mi hanno risolto, e voglio fare anche una survey ad una persona che mi ha aiutato dall'Italia, si chiama Cristiano, perché mi farebbe piacere anche se vedesse lui questo video, perché lo ringrazio, perché è stato lui che mi ha aiutato in dieci giorni ad uscire da un problema che per me era in mane. Allora, una breve storia, io all'età più o meno di 19 anni ho iniziato a lavorare in uno studio dentistico, infatti insomma lavoravo insieme a dei parenti familiari che erano medici dentisti e ho fatto per cinque anni l'igienista orale. Avevo dei denti stupendi, bianchi, bellissimi, tutti quanti mi chiamavano allora le dottoresse perché non capivano bene, insomma l'igienista era un medico. meno. No, che bei denti, che bei denti. Poi dopo la prima gravidanza non so perché ho incominciato ad avere delle carie al colletto, quindi non proprio le carie, non lo so se erano delle decalcificazioni o quelle che sia, così è iniziata la storia. E poi circa 23 anni fa ho messo un bloccaggio in oro porcellana che prendeva tutta l'arcata superiore e parte inferiore. Che è successo? Che in Irlanda due o tre anni fa sono andata da un dentista perché si era scheggiata un po' di porcellana, sapevo che non si poteva riprodurre la porcellana fuori dal forno, però poteva fare, insomma io sapevo che poteva fare qualcosa per aiutarmi, lui dice sì sì ti aiuto, ti aiuto. Ecco il trapano mi sega il ponte, l'oro. Pertanto io mi trovo con questo ponte tagliato in due, mezzo ponte che mi pendeva. Che cosa è successo? Che l'anno scorso, in luglio dell'anno scorso, sono andata in Italia da questo amico dal quale lavoravo anni indietro, dice che si può fare? Guardi, io te l'aggiusto un poco, però questo qua devi mettere o una mobile o fare un lavoro, come sia. Dice perché non hai fatto il lavoro da lui? Con tutto il rispetto, però poi ho scoperto facendo le mie ricerche che lui li incolla ai denti, magari farà pure bene, non voglio parlare male di altri, però insomma lui li incolla e invece ho scoperto con il dottor Palmas questa tecnica che è di avvitaggio. Dopodiché ci sono passata col ponte che per mezzo di una frattura ho dovuto togliere tutto, allora ho capito bene che per correre questa strada con il dottor Palmas avvitando se si rompe un dente, come quando si cambia la ruota da una macchina, la sostituiamo piuttosto che togliere tutto. Pertanto ho preferito e ho fatto bene. Perché ho detto cristiano? Perché io praticamente il mese di luglio tornai in Irlanda, ero disperata, non sapevo che fare, costavano tanto gli impianti in Irlanda come in Italia, presi appuntamento con una dentista italiana che veniva a lavorare in Irlanda per fare una protesi mobile, ho detto che devo fare, una faccio. Sotto già ne portavo una mobile, perché non sapevo che fare perché temporaneamente avevo già avuto dei problemi, i ponti che avevo erano andati via, quindi ok. Però se sono sto ponte appeso è che io poi come lavoro, lavoro al telefono, quindi parlo nove ore al giorno, oltre a essere anche una cantante. Quindi io avevo paura di rimanere improvvisamente senza ponte, senza denti, perché togliendo il ponte avevo solo dei monconi, quindi non avevo niente. Bene, allora che cosa ho fatto? Io ho detto a Dio mio che faccio? Faccio la protesi mobile, la colla, le cose, maronna mia, scusatemi l'accendo napoletano piuttosto che l'inglese. Perfetto. Allora metto a cercare su Facebook, trovo questo dottor Palmas, le testimonianze, perché secondo me le testimonianze sono una cosa fondamentale in qualsiasi cosa si fa cercare. Bene, scrivo una nota, mi contatta questa persona, questo signor Cristiano, e io gli sono grado, perché comunque secondo me è lui proprio che ha incentivato questa mia volontà di cambiare totalmente la sorta dei miei denti e della mia vita, perché comunque secondo me i denti sono il fulcro della vita, perché se tu non stai bene, incominci a stare davanti alla gente, ti metti la mano davanti, non puoi mangiare, insomma è bruttissimo. Poi ecco, parlando con Cristiano, dice ok, io sto in Irlanda e lui sta in Italia, io lavoro, non c'ho tempo, però lui ritaglia il tempo per me, parliamo tante ore al telefono su WhatsApp, ma lui non mi convince, lui non fa altro che praticamente rafforzare quella sensazione che ho avuto leggendo le testimonianze, però è stato veramente bravo perché mi ha incoraggiato, incoraggiandomi mi ha fatto uscire da me praticamente con la volontà di voler fare questa esperienza, calcolando che io sarei dovuta venire sola qua. Io non ho paura di molte cose, veramente sono una persona abbastanza forte e coraggiosa, però viaggiare in un paese straniero, poi era già periodo di Covid, ho un figlio minorenne pure da lasciare insieme a mio marito in Irlanda, preoccupazioni? Ok, no, lo devo fare perché lo devo prima a me stesso e poi a chi mi sta intorno. Perfetto, allora io che cosa faccio? Non ho soldi, io guadagno normale lo stipendio, però tutti questi soldi che per me, cioè quelli che chiede il dottor Palmas non sono molti rispetto ad altri, però per me erano tanti. Vado in banca, con la mia busta paga e ho la benedizione di stare in Irlanda piuttosto che in Italia che forse è più difficile e nel giro di 24 ore mi accettano il preventivo. Voglio dire qualcosa a proposito del preventivo. Il dottor Palmas mi ha inviato il preventivo di un tot e mi ha detto guarda tu puoi fare o il lavoro più semplice di mettere un colore oppure potresti fare, perché bisogna vedere poi da vicino, oppure fare, aspetta come si chiama, gli attacchi che si fanno qui dietro, mi sono dimenticata. Comunque quelli là un po' più complicati a cui ritiene, insomma si richiede anche l'anestesia totale. Ehi, sicomatica, mi veniva la parola. Perfetto, quindi se fai questo poi cambierà il preventivo, però per ora io ti faccio questo. Il mio preventivo è variato di 2-3 mila euro dopo per scelta mia, perché io poi ho scelto di fare la qualità superiore sopra e quella medio alta sotto, perché non si poteva fare entrambi i lati. Quindi non c'è stato questo divario, era un qualcosa, perché se io avessi voluto fare gli standard sarei rientrata anche qualcosa in meno rispetto al preventivo del dottor Palmas, quindi trovo onestà. E voglio dire anche un'altra cosa, che quando sono venuta qua, la settimana scorsa Oleg mi ha chiamato, Oleg chi è? Per chi non lo sa, è praticamente una persona anche eccezionale, che fa parte del team, che si prende cura, praticamente, ecco, di intercedere tra il personale sanitario e il paziente in una maniera eccellente. Mi chiama e dice, guarda Rosaria, che c'è un particolare, tu, diciamo, hai dato a noi 600 euro in più e mi ha restituito 600 euro anche, tra l'altro. Quindi, cosa che molto spesso non accade quando vai in un posto, non solo dai dentisti, in generale, quando dai soldi alle persone difficilmente te li restituiscono. Allora, va bene, io ora in questo periodo, io ho cantato anche all'ambasciata italiana, cioè al centro di cultura italiano, ho portato la cultura italiana, napoletana in Irlanda, mi sono messa a fare anche i mercati con le pizze, è un carissimo amico. Quindi io comunque ho cantato Temple Bar, tanto tempo in Irlanda, insomma, poi dopo, quando ho avuto questo problema, chiaramente non avrei potuto cantare, però poi è intervenuto il Covid a pensarci lui ancora prima. Quindi a causa del Covid ora non siamo tutti a casa, insomma, vabbè, io faccio il mio lavoro perché lavoro in smart working a casa, col computer, ma come cantante mi ho malgrado, insomma, come sappiamo, in Italia dappertutto, insomma. Però voglio dire, se io avessi avuto delle serate non avrei potuto fare, perché comunque con un ponte appeso non... Però ecco, voglio dire che comunque quando voglio riprendere un attimo, quando io sono venuta d'agosto, quindi tutto si è svolto in dieci giorni, perché io sono stata cristiana, guarda cristiana, io c'ho il ponte appena, nonostante qua c'era comunque un turnover da rispettare, no? Perché comunque c'è gente che aspetta, però hanno capito la mia situazione, mi hanno dato il via, subito ho fatto il biglietto, sono venuta qua il 2 agosto e il 9 agosto e sono tornata a casa con i denti ed erano dei provvisori molto belli, molto molto belli. Infatti ho pubblicato anche su Facebook delle foto e tutti quanti sono compiaciuti. Questi sono ancora più belli perché sono il colore proprio che io avevo da ragazza. Io oggi ho mandato la fotografia di quando ero ragazza che avevo tutta la dentatura e i miei denti di adesso a mio figlio, alla mia famiglia, a mio marito, a mia sorella, tutti quanti, ma mamma ma sono uguali? Mi dicevano che, ti hai i stessi denti 40 anni fa? Io mi sono emozionata perché quando li ho ammessi, dottore, mi sono guardata nello specchio per dieci minuti e mi sono ritrovata, mi sono ritrovata effettivamente quel sorriso. Io è vero, ho dato la mia fotografia a loro, loro hanno fatto il possibile, gli avevo fatto pure la testa tanto, li voglio rettangolari, li voglio bianchi, l'avevo scelto troppo bianchi, invece il dottor Vasile è stato intelligente perché dicevo, guarda, io ho scelto un bianco, però era un bianco più adeguato, se no sarebbe stato un neon, insomma, se andavi a ballare in discoteca, si vede sull'attività. Ok, quindi detto questo, e poi ho avuto, ora questa volta, che a questo non avevo trovato il dottor Palmas, che era in Sardegna, invece ho avuto la benedizione di incontrare il dottor Palmas, che è una persona eccezionale, perché è una persona semplice, è una persona immediata, è una persona con la quale gli puoi dire tutto quello che ti senti dentro, la sensazione che tieni, ne parli tranquillamente, non è una persona che crea il distacco tra paziente e medico, molte volte io per esperienza, ho un po' di esperienza nella vita, sono anche agente di commercio in realtà, in Italia facevo questo lavoro, quindi comunque riesco a percepire le sensazioni della gente che ho di fronte, che poi lei è molto più bella da vicino, bella su Facebook, ma molto più bella da vicino, bellissima su Facebook, ma da vicino è uno spettacolo. Allora, e quindi voglio dire questo, che il dottor Palmas è una persona meritevole del successo che ha, è una cosa meravigliosa che mi ha detto qualche giorno fa, che abbiamo scambiato due parole, mi ha detto guarda, io ripeto il suo gesto, dice io ho creato, chiaramente dal nulla questo, e l'ho creato così, in questo modo, mi ha fatto il segno della piramide che è convessa, al contrario, perché? Perché lui effettivamente dà spazio a tutti, cioè chiunque è meritevole, con lui trova il suo spazio, e io veramente ho avuto la sensazione, vivendo qui, che tra di loro hanno un grande rispetto l'uno per l'altro, non ci sono prevaricazioni, c'è qualche cosa che è condivisa, e quindi condividendo chiaramente, come si dice, quando si condivide qualche cosa, il bene si moltiplica e il male si divide, e quindi è quella la sensazione, è un rapporto familiare, per non parlare poi di che mi hanno dato una, cioè mi hanno dato un posto dove ho abitato, che praticamente era una casetta eccezionale, cioè pure la lavanderia, la lavatrice, il sapone per la lavatrice, cioè non sapevano più che mettere, secondo me, secondo me ci voleva pure quello che mi veniva a chiantare la vinna, è eccezionale, cioè non è mancato nulla, i costi sono anche per vivere qui, almeno qua a Chisinau, sono alla portata di tutti, perché si può spendere 35 euro a notte, avendo tutti questi privilegi, mangiare non costa tanto, insomma anche con 5-6 euro mangi tranquillamente, infatti devo dire la verità, mi sono un po' rammaricata a vedere chiaramente il valore della moneta che c'è qui lei rispetto all'euro, perché veramente la vita è proprio, cioè costa tutto poco. Io già come persona sono una persona molto forte e non ho timore di affrontare le cose, infatti sono venuta a posta da sola due volte qui, che sento per esperienza alcuni pazienti che hanno paura di venire da sole, però quello fa parte di carattere, ognuno poi lo affronta come vuole, però io ho detto il fatto che questo è un clima familiare, che tu dal primo momento, io ho trovato Sergio l'autista che mi aspetta due ore in aeroporto, con il cartello SOS, perché l'aereo ha fatto darvi, e non è che stava nervoso, che poverino, quello è stato due ore là in piedi con il cartello in mano, l'aereo non arrivava, quindi comunque c'è un'empatia da parte di tutti, non lo so se c'è una scolarizzazione che seguite tutti insieme, o il dottor Palmas che fa certo con l'anturnino, perché avete tutti quanti una grande... Ecco, il dottore Vasile, che mi ha seguito, nella prima parte mi ha seguito il dottor Giulian, che è uno dei... No, lui è il protesista, per quanto riguarda... No, il chirurgo è stato Alessandro, è eccezionale, è un ragazzo proprio... Non ho parole, non ho parole, ma tutti, ma pure il suo assistente, tutti. Ok, comunque il dottor Vasile, lui ieri è dovuto partire, è andato a Bucarecci, stanotte, ieri sera non mi avevano ancora montati, sono montati solo gli inferiori, gli altri non erano ancora pronti, erano le nove di sera, ha detto, signora Rosaria, senti, questo qua è meglio che aspettiamo, così te li fa proprio bene bene, anche se abbiamo aspettato le ore, io vado a casa, tu vedi a casa, ci sentiamo verso le undici e mezza, mezzanotte. Davvero? E mi ha dato il numero su WhatsApp, che nessuno darebbe un medico. Poi mi è arrivato alle undici e mezza un messaggio suo, ho detto, guarda che non ce la fanno ancora, domani mattina. Allora oggi erano... Poi insomma erano messi... Che era? Mezzogiorno i denti oggi. E il dottor Vasile, a l'una e mezza, senza sapere ancora, che così mi ha mandato un messaggio, da Bucharest e ho detto, signora sono la massa identica, cioè continuate a seguirmi. Davvero? Davvero, ce l'ho là. Cioè, è incredibile. Come pure il dottor Palmas, quando mi ha visto abbiamo fatto la fotografia insieme oggi, ho detto, vai in laboratorio, fatti vedere. Cioè, quindi non è il dottor Palmas, ha detto, io sono il medico, sono il titolare, quelli sono quelli che lavorano là, seduti alla sedia. lo so perché ci ho lavorato, so che significa. No, ha detto, vai in là e fatti vedere. Io infatti sono andata là, e questo ragazzo che mi... il dottor Tecnico che mi ha fatto il lavoro, gli ho fatto vedere la fotografia mia di quando avevo 21 anni e di oggi che non ho 3-4 anni in più. E ho detto, guarda, tu mi hai fatto uguale. Tu mi hai fatto uguale. Il mio figlio che ha 15 anni e mezzo, ha detto, mamma, ma sei uguale. Cioè, e quindi io veramente non ho parole per quello che mi è successo e come posso essere grata a tutti. E poi voglio dire anche un'altra cosa. Ad esempio, io ho avuto, quando ho avuto i provvisori, non ho avuto problemi grossi, però avevo una sensazione di tiraggio dei monconi. Io non mi sentivo tirare. E loro mi dicevano che non capita frequentemente. Dato che a me hanno cambiato anche il morso. Perché io avevo il morso nella seconda classe. Cioè, la parte di sotto andava più dentro. Quindi io, quando avevo i miei denti naturali, i miei denti sotto non avresti mai visti. Invece adesso li vedi. Perché? Perché mi disse Alessandro, il chirurgo, che mi disse, guarda, io ora ti modifico il morso. Il tuo viso avrà dei cambiamenti. E mi disse, ma in bruttezza, ancora peggio. Cioè, no, in bellezza. Perché comunque tu, il mento ti riesce un po' più fuori. E infatti così è stato. Perché io ora i denti sotto li vedi. Prima non li avresti visti. Allora, questa cosa potrebbe aver causato questo tiraggio strano che sentivo. Però Alessandro gli ha detto, al dottor Vasile, ha detto, guarda, che probabilmente quando gli metti i definitivi questa sensazione non l'avrà più. Perché avrà il suo segno. Da stamattina, io questo sto guardando, io non ho sentito più questa sensazione. però io quando stavo in Irlanda ho chiamato Cristiano perché Cristiano fino all'ultimo e anche quando sono tornata, mi ha aiutato, non è solo allora. Mi ha continuato ad aiutare sempre, sempre a disposizione. Il mio figlio di 15 anni e mezzo ha fissato i cedenti gialli che poi c'è una dentatura bellissima però i ragazzi teenager. Ok. Ma ha dato le risposte pure i miei figli. Non è che io gli ho detto solo il mio problema. Sono disponibili per tutto. Ok. Poi ho chiamato anche, chiamai anche Oleg. Oleg mi contatta entro un giorno e mi dice, dopo il rapporto proprio dopo la cura, e mi dice Rosalia che succede? Gli spiego. Parla con il medico. Ok, parlo col medico. E parlo con Julian che mi ha messo. Dice fammi un video dicendo delle parole che si dicono per vedere la... Ok. Feci questo video. Lui mi disse guarda che così, così, così. Cioè a distanza di tanti chilometri io in Irlanda, loro in Moldavia, nel giro di un giorno, un giorno e mezzo mi hanno tranquillizzato. Quindi io onestamente è vero che sto in Irlanda ma è come se le avessi tenuto dietro l'angolo loro. Quindi comunque è stata una bellissima cosa. Io non ho quella cosa di dire venite, venite. Sembra quasi come se mi avessero pagato per dire questo. Io dico soltanto che se ci si vuole bene bisogna pensare seriamente a se stessi. E pensare a se stessi significa fare la scelta migliore. Io do la mia testimonianza. Questa per me è stata una scelta inaspettata perché come ho detto prima io non aspettavo. quindi nel giro io il giorno che dovevo stare alla dentista fu il primo giorno che stavo qua. Tutto si risolve. Lo so, a volte ci sono problemi economici si vede come si fa. Si parla come risolvere. L'importante è avere la disponibilità all'apertura a parlare con le persone responsabili. E poi oltre questo bisogna credere soprattutto che ce la si può fare. Cioè ci sono persone che ce l'hanno fatta. Io da agosto ad oggi quanti mesi sono? Sono 8-9 mesi non mi ricordo. Comunque io Sono 8 mesi. Io pensavo di dover fare i zigomatici la cosa più difficile. Mi sono venuta qua mi sono accorta che non ho fatto neanche il rialzo perché mi è andata bene però io vedo tante persone che hanno fatto i zigomatici che sono felici uguali che ho conosciuto io perché poi qua quando ci si incontra tutti quanti che veniamo insieme ecco io c'ho un sacco di amici in più su Facebook ci sentiamo anche qui io sono stata in questi giorni con una cara amica cioè perché ormai siamo diventate un clima di sorrellanza quindi comunque io ho il consiglio credo questo bisogna pensare a se stessi che si è un sacco di amici in più l'unico che si è un sacco di amici in più quindi anche se un sacco di amici in più